Secondo What If è finito il torneo del potere, tornano a casa i nostri alleati e subito, anzi purtroppo, Vegeta cade vittima di un simbionte che lo trasforma e lo rende malvagio. Before you die, allow me to show your power beyond that of Super Saiyan God! I'm going to enjoy making you scream! What? Whoa! Not bad! Die! Dammit! Alright! It isn't over yet! You fool! Scram! It isn't over yet! It isn't over yet! Take this! That's enough! This is it! Whoa! Take this! It isn't over yet! Scram! Scram! Gah! Ha ha! It's my turn! Yeah! Yeah! That's enough! Come in, I mean? Ha ha! Not bad! Ha ha! Come in, I mean? Ha ha! 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 L'avversario non era venuto da solo, infatti compare sulla scena il Saiyan mascherato, anche lui in redice dall'attacco. E in quel momento arriva sulla terra UB e decide di aiutare il maestro, o meglio, più che aiutarlo decide di farlo riposare. E guadagnare tempo affinché Goku poi blocchi la nuova trasformazione ed elimini il nemico. Ma le prese me le fanno solo loro. Pugno fantasma. Ok. Superesplosione dell'Aura. Questo lo scusco! ahhh 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 What? Lo sdistrugio schianto del mediorita schianto del mediorita schianto del mediorita e finalmente c'è una vittoria da parte dei cattivi ma non è solo, è arrivato anche Super C-17 l'androide immortale che si scontrerà con Gohan Ok, let's get going Your empty threats are pointless This can't be Ok, eliminatore del tuo Oh, no, 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 no Gohan libera una forza incredibile ma nonostante ciò viene messo a tacere da Super C-17 Anzi, addirittura lo uccide e questo manda in store furia Goku Nel frattempo, Junior pratica una nuova una nuova trappola cioè, scogita una trappola la Mafuba ma per non farsi prendere il simbionte che aveva attaccato Vegeta decide di buttarsi lui e mantenere attivo il suo corpo per cui vedremo è sempre malvagio ma ha perso le trasformazioni come abbiamo detto prima cioè, la trasformazione secondo il simbionte eccolo qua sempre sul pianeta al suo furo è un po' I'm getting excited Take this Come on me Come on me Come on me e non ha avuto il tempo nonostante tutto il nemico resiste ancora intanto Goku sta perdendo un po' più vita e Goku sembra perdere i sensi arriva Gohan tenta di fare qualcosa ma è inutile come si chiama Super C17 è troppo forte e uccide Gohan dopodiché Junior tenta di entrare solo per lasciare la possibilità a Goku di riprendersi da questo scontro epocale che è appena avvenuto lo teletrasporta su al palazzo del supremo mentre Vegeta arriverà sulla capsule corporation no dai 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 Si rende conto che P.O. con gli ultimi 17 è troppo forte e ricorre anche l'ultimo ma questo dispendio di forze fa svenire Junior. Ora c'è solo Vegeta da battere. Goku decide di non ricorrere al Super Saiyan Blue ma una trasformazione minore. No, sto sbagliando, il Super Saiyan Blue affronta così Vegeta. Però Vegeta... Il Vegeta... Allora, io prenderò il Majin ma tecnicamente non è... Cioè, facciamo che non è Majin, è soltanto controllato ancora da Baby. Vediamo dove è, vediamo dove l'ha piazzato. Strano che non è qua. Caspita, eh. Ah, prima, vero. Il Vegeta. E loro, e Vegeta si era diretto alla Capsule Corporation per fare del male a Bulma e a Trunks dato che è stato controllato da Baby. Cioè, da Sita Baby, giusto? Quindi, avviamo questo scontro epocale. Ma io... No, caspita. Goton arriva in questo momento ma non fa rinforzare l'unità contro di lui. infatti il padre mi dice di stare a me e rimanere a sbagliare per farcire di poterlo distingere da solo buono il primo kamameha viene in mezzo a te e viene messo KO anche Vegeta quindi finisce per fortuna questa battaglia ma purtroppo o per fortuna il video non finisce qua perché adesso c'è una nuova rivelazione purtroppo il potere della Mafuba è controllato dal possessore ma se il possessore si viene la Mafuba può anche rompersi e questo è quello che accade e siccome anche Vegeta si è ripreso dallo scontro o meglio ha fatto sparire la parte malvagia adesso i due si fondono in Vegeku e affronteranno insieme l'androide l'androide immortale stavo per dire l'androide perfetto siamo sempre alla sanguaria di Dio ma decidiamo di allontanarci per non creare danni l'altro Grazie a tutti! 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 La prima volta VGQ cade, si scioglie la fusione, ma i due hanno ancora molta energia, soprattutto Vegeta, e decide di affrontarlo... There isn't going to be anything left of you when I'm John! ...soltanto una volta, ovvero durante il torneo del potere. Do not underestimate the power of our Satan! E iniziamo lo scontro finale! Oh! 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 Hey! cui il torneo del potere appena passato e chi c'è che era gli alamato di difficoltà nel torneo del potere tocca e se lo dico il gilano quindi usa tutto il suo potere per annientare il nemico e questo vuol dire che il torneo del potere ha voluto distruggere anche se la tecnica è usare il cannone gallic il cannone gallic però poi non è stato fatto vedere cazzarola l'ho battuto così e fa niente vuol dire che viene disintegrato dal cannone gallic e per nostra fortuna la storia giunge al termine